Si chiama Matt Terry, è il vincitore di X-Factor UK, quindi versione inglese, concorrente di Nicole Schwerzing, che adesso inciderà un disco lanciato dal primo singolo, scritto dal grandissimo Ed Scheran. Sono ben quasi 6 milioni e mezzo i voti arrivati per lui. Il cantante quando ha sentito il suo nome pronunziato dal conduttore è caduto per la grande sorpresa e la grande felicità. Al secondo posto si è classificata Sara Alto, che ha rappresentato la Finlandia all'ultimo Eurovision Song Contest e il video della caduta in pavimento sta facendo il giro di internet.